Con i test di Barcellona sul circuito di Montmelò è scattata ufficialmente la stagione 2022 della Formula 1, nella prima giornata di test vola McLaren di Norris che chiude in testa con mescola C4, bene la nuova Ferrari, le russe di Leclerc e Sainz sono alle spalle del pilota britannico, al termine va in scena la soddisfazione di Charles Leclerc, le prime sensazioni sono positive, ma di sicuro non dobbiamo dare troppo peso alla classifica e dei tempi di oggi, perché siamo all'inizio e nessuno sta svelando il proprio reale stato di forma, Leclerc chiude con il secondo tempo. Per l'altro ferrarista Carlos Sainz, terzo tempo, lo spagnolo dichiara oggi è stata la prima volta che sono potuto salire in macchina per un programma completo, a differenza delle occasioni precedenti, quando fondamentalmente avevamo effettuato degli shakedown. Mercedes e Red Bull sono staccate, ma Sainz invita alla prudenza.